Quello che vedete in questo momento si chiama Maria e sta facendo qualche cosa con le mani così tanto per passare tempo In realtà quello che ha fatto fino adesso è questo, ovvero Ampanata di Pio Questo non è altro che quella polla e patate, ma questa è quella di Pio, qual è la differenza? Quelle polle e patate, quelle preferite di Alessio Va bene, insomma, qual è la differenza con le polle e patate e chi di Pio, grazie Quindi quello che vi voglio fare capire è che praticamente mentre queste qua restano scoperciate, cioè diciamo così direttamente Invece queste qua, queste vengono con il coperchio With copper, tutto questo senza ancora sapere che cos'è Usain Queste qua sono col coperchio, cioè sono delle specie di scaccioni con all'interno la carne Che poi alla fine verrà così Cioè giù di combattere, no? Giù di combattere Lo piglio, lo metto nel forno, arriva nella tavola, lo mangi Menzionetta proprio a suonare, menzionetta E si finiranno queste cose Ma con me ne fanno queste cose Ma poi usai 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 Giù di combattere Ho messo meglio Grazie Grazie Grazie